e così possiamo vedere che cosa è successo oggi sui giornali direi che dobbiamo girare qua la telecamera eccola qua questa è la diretta di facebook allora che cosa è successo sui giornali oggi il 26 aprile buongiorno vita la prima a inserirsi in questa rassegna stampa beh ovviamente a tenere banco guarda vi risparmio tutte le minchiate sul 25 aprile nel senso che sono sempre le solite cose che riguardano il 25 aprile che da tutti gli anni con qualsiasi governo è sempre stato divisivo ieri ce n'è stato vedo che arianna è su instagram è una instagram mat va bene del 25 aprile vi dico poco forse più tardi vi farò avere un piccolo scorcio di quello che abbiamo raccontato ieri a rete 4 con barbara palombelli ma il punto fondamentale di oggi è ancora il caso siri il sottosegretario dei trasporti che secondo un'intercettazione avrebbe un'intercettazione di un suo conoscente ex parlamentare di forza italia tale arata beh col suo figlio avrebbe detto abbiamo promesso a siri o gli abbiamo dato non si capisce bene se è promesso dato 30 mila euro il caso siri secondo sallusti è il solito che non è un grande difensore di questo governo dice come nel caso dell'intercettazione farlocca del papà di renzi ve lo ricorderete quando si disse che il papà di renzi aveva incontrato una persona piuttosto che un'altra ma in realtà non era il papà di renzi ma era un'altra persona completamente diversa e lì fu cambiata una paroletta all'interno dei brogliacci delle intercettazioni da parte di un carabiniere che poi disse mi sono sbagliato insomma ricorda sallusti come le intercettazioni con le intercettazioni si debba andare molto e molto diciamo tranquilli insomma perché si possono commettere dei grandi errori e dice speriamo che salvini abbia dice testualmente sallusti le palle per resistere e spiegare che non si può far cadere un governo e tantomeno un sottosegretario per il un'intercettazione che tutta da dimostrare di un'indagine che deve essere ancora conclusa il fatto quotidiano dice al contrario che i vertici del carroccio starebbero dicendo al carroccio cioè i vertici leghisti sarebbero dicendo a salvini o ma che facciamo cadere un governo per un sottosegretario tra l'altro con queste intercettazioni che girano insomma ci sono due interpretazioni diverse terza interpretazione direi da più autentica semplicemente che parla in prima persona è di maio che oggi alla corriere della sera dice quello che ha detto ieri a tutti i giornali e cioè come che conte costringerà siri a lasciare il suo incarico anche se qualche giornale oggi nel retroscena dice che salvini vuole che siri parli prima con i magistrati e poi si presenti da conte quindi cambiando l'idea che lunedì vada da conte il sottosegretario siri e dice un'altra battuta importante che la mafia non si batte con un comizio facendo riferimento a salvini che era andato ieri a corleone invece di andare a 25 pede devo dire che questi stanno litigando come delle bestie ma attenzione buongiorno a giambattista che vedo che si collega ora litigano mostruosamente continueranno a litigare fino al 26 maggio dopo il 26 maggio data delle elezioni europee bisognerà capire come si sono assestati i voti per l'uno e per l'altro e se dopo le elezioni non sarà più forte per loro la tentazione a governare il governo il potere è un collante formidabile o sarà più importante per loro cercare di andare sulla loro strada e andarsi a candidare bonini oggi su repubblica si inventa una nuova macchina dopo quella del fango è la macchina del rumore prima la macchina del fango era il giornale libero oggi giornale libero compagnia votante sono la macchina del rumore meglio e la macchina della confusione meglio rispetto a quella del fango perché sostiene bonini che questa roba dell'intercettazione c'è è un'intercettazione ambientale fatta dalla dia e che non è vero a differenza di quanto anche oggi sostiene bel pietro che non esiste esiste nei prossimi giorni nelle prossime ore verrà pubblicata devo dire che visto che loro conoscono molto bene le procure bonini e ferrarella c'è da credere che alla fine qualche cosa verrà pubblicata anche se molte volte e queste intercettazioni penso la culona della merkel non sono mai uscite lo vedremo nelle prossimi giorni se è vero che c'è una macchina del fango c'è una macchina del rumore o c'è una macchina di quello che è detto questo resta il fatto che anche se uscisse una frase e cioè che un imprenditore dice gli ho promesso 30.000 euro poi questi 30.000 euro cioè in questa maniera tutti noi siamo come possiamo dire potenzialmente in galera pensateci un attimo se questa rata fosse un delinquente non lo so e suo figlio fosse un complice del padre delinquente non lo so e quello la dicesse a porro a porro di 80 20.000 euro perché parli bene di me in televisione ragazzi se proprio mi indagano pure a me sono cazzi cioè io non posso stare attento a quello che dicono eventuali delinquenti poiché io conosca rata non conosca rata è irrilevante io conosco migliaia di persone state attenti vi prego state attenti a dare giudizi su frasi del relato rispetto al mio comportamento quando sentirete che qualcuno dice che porro ha fatto questo quest'altro senza aver nessuna prova che io l'abbia fatto vi prego vale per siri vale per la raggi vale per belzebù i derelato mi mettono una paura mostruosa savonarola no vabbè comunque fantastica per per cambiare tema la questione di travaglio di oggi io vi giuro che travaglio vi giuro che travaglio oggi ha scritto una cosa per sputtanare la protezione civile per fare un pezzo sul 25 aprile lui fa un pezzo sul 25 aprile poi ci deve mettere sempre berlusconi perché come lui è fissato su berlusconi io sono fissato su di lui ma la cosa fondamentale di travaglio è che oggi ve la leggo ve la leggo e disse che berlusconi ebbe il massimo del subconsenso a donna quando si mise il falso letto della resistenza ma non è questo quello di cui voglio parlare la protezione civile aveva fallito nella prevenzione sulla prevenzione del terremoto in abruzzo cioè secondo travaglio i terremoti si possono prevedere ma veramente cioè i terremoti si possono prevedere quel terremoto fece 80 mila sfollati e secondo travaglio la protezione civile dell'odiato bertolaso poteva una settimana prima un mese prima due mesi prima tre mesi prima per sempre dire a 500 mila persone un milione di persone di sfollare da quel posto perché si sarebbe arrivato un terremoto guardate con lo stesso criterio dovremmo sfollare un pezzo di roma un pezzo della calabria un pezzo della puglia un pezzo dell'abruzzo un pezzo dell'umbria sfolliamo nell'anticipo perché sappiamo che arriverà un terremoto c'è travaglio dice vi giuro vi giuro che i terremoti sono prevedibili cioè è come un terra piattista la mette lo stesso livello la terra piatta i terremoti si possono prevedere allo stesso identico valore i rider sono arrabbiate neri con i vip che non gli danno la mancia io lo capisco bene quando tu ordini da uno di questi delivery insomma ti viene di dare a questo che viene in bicicletta un euro due euro tre euro quattro euro di mancia e loro però hanno fatto una cosa che non si fa e cioè hanno detto noi vi conosciamo nome cognome dove abitate che cosa mangiate è insomma io la trovo una cosa straordinaria ma nella sua gravità cioè se tu pensi che tu affidi il tuo indirizzo una persona che ti porta da mangiare a casa e poi quella persona se non gli dai la mancia ti segnala e comunque ti mette in una cosiddetta lista non è che è una cosa grave una cosa gravissima qua siamo nel paese della straminche in cui ti fanno firmare 15 miliardi di cose sulla privacy eccetera e poi ti scrivono che non dai una mancia cosa orrenda secondo me ma non obbligatoria ai rider che ti porta da mangiare a casa ma ragazzi io chiudo quell'azienda avete sentito la parola chiudo quell'azienda perché se io penso che un'azienda che mi arriva a casa con nome e cognome con un signore che tra l'altro come abbiamo dimostrato a quarta repubblica spesso questi signori non sono gli stessi che hanno preso ma sono dei clandestini beh insomma è una cosa di una gravità fenomenale c'è poco da ridere c'è poco da indignarsi con quei tirchi orrendi dei vip che non danno la mancia c'è da indignarsi sul fatto che uno ti possa segnare che è venuto a casa e tu non gli abbia dato la mancia chiaro toto dovrebbe essere due notizie di economia il nuovo socio dell'italia andiamo bene quello che aveva fatto saluto bartolomeo quello che aveva fatto air one l'aveva piazzata con grazie a berlusconi ad alitalia air one non è che andasse così bene vi ricorderete la compagnia privata di toto che peraltro gestisce anche le autostrade nel centro dell'italia io non nulla contro toto ma se toto è il nuovo socio dalle spalle larghe di alitalia andiamo bene pensate un po voi di che cosa stiamo parlando e continuano invece si interrompono invece del tutto le trattative per la fusione tra deutsche bank e commerce bank vedrete ma chi se ne frega di queste cose tecniche la più importante considerata banca europea questa famosa deutsche bank vale in borsa quanto moncler giuro 15 miliardi di euro cioè deutsche bank vale quanto un titolo nato da dieci anni grazie all'intuizione di ruffini vale lo stesso prezzo di moncler voleva fondersi con commerce bank non ci riescono e quello è il vero bubone dell'europa non le banche italiane non la credit batte la pesca ma la più grande banca d'europa non vale più nulla perché è sull'orlo del fallimento avete capito bene fallimento non si ha il coraggio di dirlo solo perché tedesca è una banca di merda mi possono querelare forse sì mi possono quella diciamo che non è una banca di merda una banca diciamo che non di cui non affidarsi so proprio il semplice motivo che ha in pancia una quantità di derivati che fa impressione e soprattutto è difficile trasparente analisi sul decreto crescita lo leggo oggi sul sole 24 ore stiamo parlando del decreto che secondo il direttore generale della confindustria va nella giusta direzione per le imprese ci sono 70 milioni di euro 70 milioni di euro devo dire che se 70 milioni di euro è una giusta direzione beati loro che si accontentano straordinario le metti l'assessore al bilancio quello che si mette con le manigliette non so dei punk degli anni magari dei panchi degli anni 80 beh il lemmetti dice che se non che roma tra tre anni fallisce per il suo debito e questo è diciamo è una minaccia si è una minaccia cioè ovvero prendete tutti quanti voi italiani in roma fallisce peraltro è anche vero perché se fallisce roma cosa succede che ovviamente a pagarne le conseguenze commissariali sarà comunque l'italia e quindi ce la paghiamo noi per le cacchiate che fanno in questa città ultima cosa i clandestini sono 90 mila il Corriere della Sera fa un approfondimento sulla frase di un paio di giorni fa è una cosa incredibile io dico Salvini fa il ministro degli interni ma tu ci hai detto fino a una settimana fa che erano 500 mila abbi pazienza se oggi scopro che sono 90 mila c'è qualche cosa che non funziona nei numeri c'è anche 270 mila sarebbero andati in altri paesi europei io godo come un riccio ma vanno negli altri paesi europei in maniera irregolare sono i cosiddetti immigrati secondari movimenti secondari io ci godo perché vanno anche negli altri paesi europei è evidente che vengono qua per andare in Germania in Francia o in altri paesi a ricongiungersi però ragazzi stiamo parlando di un disastro perché tu non mi puoi dire che erano 500 mila e ora sono 90 mila c'è qualche cosa che non funziona non me candido mai non ti preoccupare ultima cosa beh insomma oggi solo il Daily Mail giornale popolare inglese mette in prima pagina nel fascione di destra di prima pagina mette la straordinaria foto della nuova Bond Girl con il nuovo James Bond che forse mi sembra che oggi il messaggero richiama in prima pagina nel sovratestata che secondo me essendo io un amante di James Bond è comunque una notizia almeno superiore a quella di Games of Thrones che vediamo ovunque su tutti quanti i giornali e direi che per oggi è tutto noi ci diamo appuntamento come sempre domani con la zuppa e col sito di colaporro.it vi ricordo lunedì quarta repubblica martedì su canale 5 matrix do un abbraccio a tutti quanti voi sia su instagram sia su facebook e la diretta finisce qua ciao